Il genio civile di Teramo non funziona e questo crea problemi disagi e soprattutto ritardi per le tante pratiche post-sisma. Lo sostiene ad alta voce l'Ordine degli Ingegneri di Teramo che ha deciso di protestare davanti alla sede degli uffici teramani e lanciare un messaggio al Presidente D'Alfonso. Una regione facile dovrebbe avere un genio civile facile, invece qui a Teramo sono dei grandi problemi secondo voi? Sì, quella dichiarazione va messa in pratica. Rendere semplice e facile con degli slogan non produce effetti se poi non interviene nel cuore il problema. Siamo qui di fronte al genio civile per manifestare questa situazione di disagio che i colleghi stanno denunciando da tempo per problemi inerenti al genio civile, problemi pregressi, problemi attuali sicuramente bisogna porre rimedio. Abbiamo fatto diverse comunicazioni, l'ennesima che facciamo anche al Presidente della Regione affinché si impegni a risolvere questo problema. Che problemi ci sono? Faccio qualche esempio, ci sono tempi di verifica delle attività svolte che sono in ritardo di qualche anno, aziende che stanno aspettando sopralluoghi oppure rilasci di depositi che vanno oltre i tempi limiti della norma. Ci può anche stare, ma dove la richiesta deve essere sopportata nell'arco di 20 giorni e attendere qualche mese comincia a procurare qualche disagio. Oppure altre attività che magari necessano di tempi più immediati e si prolungano alle calende greghe. Questo non va più bene. Cosa chiedete al Governatore D'Alfonso? Di metterci rimedio. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo resta in attesa di una sollecita risposta da parte della Regione Abruzzo e spera che tra i primi provvedimenti per rendere più efficiente il genio civile ci sia la strutturazione di una task force per alleviare i tempi di attesa.